Un passo decisivo verso la riduzione del traffico che dal Cuneese converge nel centro di Carmagnola per poi dirigersi verso Torino, con il conseguente abbattimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico. È tutto questo la nuova bretella di Carmagnola che collegherà il futuro casello dell'autostrada Torino-Savona con le provinciali 20, 661 e 137. La nuova strada è stata inaugurata la presenza del capo compartimento ANAS per il Piemonte, Walter Bortolani, del sindaco di Carmagnola Silvia Testa, del sindaco e del vice sindaco della città metropolitana di Torino, Piero Fassino e Alberto Avetta, e dell'assessore ai trasporti della regione Piemonte, Francesco Balocco. Siamo molto contenti per questo territorio, effettivamente è la cosiddetta bretella di Carmagnola che contribuirà a leggerire i traffici in avvicinamento alla città, ridurrà l'inquinamento acustico e atmosferico e servirà la collettività. Aspettavamo questa bretella da 17 anni, quindi finalmente anche i fari sono stati puntati sul nostro territorio, un territorio molto grande e vasto di 100 km quadrati che necessita assolutamente attenzione da questo punto di vista della viabilità, proprio per sgravare il centro cittadino. L'opera è stata progettata e realizzata dall'ANAS e sarà gestita dalla città metropolitana. È costata 23 milioni e 307 mila euro, con un contributo della regione di 2 milioni e 500 mila euro. Ha due corsie larghe 3,75 metri e due banchine di un metro e mezzo e lunga 4 chilometri e 100 metri con quattro rotatorie in corrispondenza dell'intersezione con le tre strade provinciali e con la viabilità di accesso al futuro casello autostradale. L'impresa non si concluderà finché questa bretella non si collegherà all'autostrada e al casello. Da questo punto di vista noi non abbiamo competenze dirette ma stiamo in contatto costante, direi, con il Ministero dei Trasporti e dell'Infrastruttura finché negli accordi tra il Ministero stesso e la concessionaria dell'autostrada si provveda nel più breve tempo possibile a realizzare il casello, altrimenti effettivamente questa importante e bella realizzazione finisce per essere monca. Mettiamo un tassello importante nel sistema di circonvalazione di Carmagnola, è chiaro che va completato, va complicato con il casello autostradale e credo che l'apertura di questa bretella sarà motivo, sarà ragione con la quale noi chiederemo con più determinazione, con più forza di quanto sia stato fatto in tutti questi anni alla concessionaria autostradale di fare l'intervento sul casello e quindi di completare questo anello che consentirà di distogliere il traffico dal concentrico di Carmagnola sulla parte circostante.